Mi chiamo Harvey Milk e sono qui per reclutarvi tutti! Se gli omosessuali hanno i loro diritti civili, allora anche le prostitute o i ladri o chiunque altro. 40 anni e non ho fatto niente di niente. Non mi farò allontanare da San Francisco per mano di deviati sociali e depravati. Ci serve uno dei nostri in quegli uffici. Potrebbe esserci una rivoluzione. Qui. Io non ci sto coi perdenti. La responsabile della nostra campagna. Avete tutti paura delle donne? Sarai il primo uomo dichiaratamente gay eletto a una carica pubblica. Così fai parte dell'ingranaggio ora. La società non può esistere senza la famiglia. Non siamo contro la famiglia. Due uomini possono procreare? No, Dio sa quanto ci proviamo però. Se queste persone avranno una condotta apertamente omosessuale, saranno rimosse dai loro incarichi. Se vogliamo vincere, ci servono tutti. Se perdiamo, avremo leggi omofobe in tutti e 50 gli stati. So che siete pieni di rabbia! Io sono pieno di rabbia! Tu non sei come gli altri omosessuali, vero Harvey? Conosci molti omosessuali, Dan? Harvey Milk sarà sventrato e vivrà la sua notte degli orrori. Chiamo la polizia. Probabilmente l'hanno scritto loro. Direi che hai un problema. Questo è molto più di un problema. È per la nostra vita che stiamo lottando. Ti becchi la prima pallottola un minuto dopo che sei al microfono. Non devi salire lassù. Tutti gli uomini sono creati uguali! Possono provarci con tutte le loro forze! Ma non riusciranno mai a cancellare queste parole! Di questo, di questo è fatta l'America! Voglio che tu sappia che sono fiero di te. Senza la speranza, la vita non vale la pena di essere vissuta. Devi dare alla gente la speranza. Gli devi dare la speranza. La sua vita ha cambiato la storia. Il suo coraggio ci ha cambiato la vita.